Si può vedere, si può vedere la festa a ballo fare, si può vedere, si può vedere la festa a ballo fare. Si è aperta con un festoso omaggio al Carnevale, al mito di una delle maschere tradizionali comiche più amate in assoluto, la seconda parte di programmazione di Quartieri di Vita, il Festival di Teatro Sociale diretto da Ruggero Cappuccio e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, che si propone di tracciare nuovi percorsi teatrali attraverso il sostegno a realtà, che operano principalmente in aree a rischio e a favore delle fasce più deboli. In scena, al centro giovanile Asterix di San Giovanni a Teduccio, Pollicinella e i canti dello Carnevale, per la regia di Mariano Baudouin. Baudouin dirige un cast composto dalla Compagnia Gli Alberi di Canto Teatro, da lui fondata dopo l'esperienza ventennale con Roberto De Simone, a cui si aggiunge il gruppo di laboratorio vocale permanente della Corale per San Giovanni, progetto che il regista porta avanti da anni nella periferia est di Napoli. Lo spettacolo si articola come una vera e propria festa popolare negli spazi del centro, dove assiede anche il The Beggar Theater, con il coinvolgimento degli stessi spettatori. La memoria può essere quell'arma che riunisce in una specie di immaginario abbraccio collettivo le persone anche con diverse culture, diverse estrazioni sociali, che all'interno della propria radice popolare ritrovano la propria anima, la propria essenza, e si trovano insieme in quello che era la festa anticamente, cioè un momento di condivisione e di raccoglimento.